Il nostro approfondimento di quest'oggi è anche dedicato a quello che sarà un po' l'argomento di una nostra rubrica SALOS, una rubrica che viene realizzata in collaborazione con l'assessorato regionale alla salute e ci occuperemo di sanità. Questa settimana ospite di questa rubrica è il dottor Giovanni Bavetta che è responsabile dell'ASP di Trapani. Dottore Bavetta, ne approfittiamo proprio per ricordare i nostri telespettatori che adesso che arriva il freddo bisogna ed è importante per le categorie a rischio il vaccino per esempio, cosa di cui abbiamo già parlato nelle scorse settimane proprio nella nostra rubrica SALOS ma che sarebbe opportuno ritornare ancora a ribadire il concetto di quanto sia importante vaccinarsi. Certo, anzi colgo l'occasione e ringrazio la vostra emittente perché mi dà l'opportunità di parlare direttamente con le cittadine e sono tanti che seguono questa trasmissione quindi mi fa solo piacere poter dire alcune cose che sicuramente i miei colleghi avranno già puntualizzato bene. Aderire alla campagna di vaccinazione è un dovere perché intanto ci permette di non avere malattie che possono dare delle complicanze a dei pazienti che comunque già hanno delle patologie per cui questa infezione virale ricordiamolo che è mortale, può anche essere mortale quindi sono quelle malattie che oggi grazie alla tecnologia e ai vaccini noi possiamo prevenire ma soprattutto perché impediamo la diffusione di queste malattie quindi la diffusione a bambini, le persone quindi ammalate quindi l'adesione alla vaccinazione deve essere totale, deve essere un dovere di ogni cittadino perché è uno strumento senza dubbio che porta solo a impedire che queste malattie possano diffondersi e che possono provocare in soggetti che hanno già altre malattie croniche possono provocare anche problemi più seri. Per chi non l'ha mai fatto vogliamo ricordare come ci si vaccina e poi soprattutto il fatto che il vaccino è un'operazione che dura qualche, è un istante, è una punturina in dolore e noi abbiamo fatto vedere un servizio la scorsa settimana dove e come ci si vaccina. Allora intanto è facile perché ci sono tanti accessi, i nostri centri di riferimento sono più di 30 dislocati nella nostra azienda quindi la possibilità di avere l'opportunità di vaccinarsi, il vaccino c'è basta chiederlo a informazioni ai nostri centri di erogazione e ai nostri presidi territoriali, il medico di famiglia che sicuramente lo consiglierà e non ci sono dubbi che questo è facile averlo. La puntura è una sciocchezza, non fa male, però vorrei accogliere anche l'occasione che nel periodo invernale bisogna dare una correzione anche all'alimentazione che è importante quindi ricca di frutta, di verdure, di un'alimentazione proteica, quanto più possibile quindi coprirsi bene, stare in ambienti che siano ben riscaldati, tutte le opportunità che devono impedire anche semplice raffreddamento quindi che può essere precursore poi di un'infezione virale o batterica dobbiamo assolutamente metterle in campo quindi coprirsi bene, una corretta alimentazione e soprattutto, lo insistiamo a dirlo, la vaccinazione. Grazie dottore Bavetta, adesso la linea a Stefania Renda per il TG. Grazie a tutti.